Posti letto, piano socio-sanitario e aziendale. Nel Consiglio regionale ieri mattina è stata discussa la vostra interrogazione in merito all'ospedale Santa Croce di Fano. Quali risposte avete ottenuto dalla Giunta sul futuro del nostro nosocomio? Finalmente abbiamo avuto delle risposte un pochino più chiare perché l'assessore se l'è presa per come avevamo titolato la mozione perché in interrogazione parlavamo di reticenza ma questo sinceramente è dovuto dal fatto che la mozione con cui si impegnava la Giunta ad attivare i famosi 50 posti letto di ortopedia nell'ospedale Santa Croce, nell'ospedale pubblico che ho presentato io in inizio alla legislatura era stata bocciata dal centro-destra e quando è stata presentata nella coda della consigliatura di Seri vi ricorderete che è stata approvata in Consiglio Comunale però gli esponenti di centro-destra sono usciti dall'aula e è rimasto dentro solo Pierpaoli che votò contro. Quindi sinceramente quando c'è stato il consiglio monotematico sulla sanità e Saltamartini è venuto in aula a dire a Fano che posti letto 50 sarebbero rimasti nella nostra città, in tutti è sorta la domanda ma saranno di ortopedia? Quindi finalmente ieri la reticenza che c'era sinceramente perché in questi anni non avevamo avuto risposte sufficientemente chiare è stata sciolta e l'assessore ha detto che Fano avrà i suoi 50 posti letto e saranno posti letto di ortopedia. Adesso sorge un'altra domanda e noi del Movimento 5 Stelle a questa questione ci teniamo moltissimo, cioè saranno tutti pubblici perché per noi la sanità deve essere pubblica e deve essere rafforzata quella pubblica. Innanzitutto la mobilità passiva che è molto forte nella nostra provincia viene fatta proprio per interventi di ortopedia, sappiamo bene che i nostri concittadini vanno a curarsi in Emilia Romagna perché abbiamo lunghissime liste d'attesa. E per evaderla anche gli operatori della nostra zona chiedono che sia potenziata la protesica nell'ospedale Santa Croce di Fano e la traumatologica nell'ospedale di Pesaro. Quindi forse questi 50 posti letto si poteva individuare una forma per lasciarli al pubblico, però il mio sospetto è che andranno, in che parte ancora non lo sappiamo, alla sanità convenzionata e il Covid ci ha mostrato che la sanità convenzionata non è uguale a quella pubblica. I cittadini l'hanno vissuto sulla propria pelle già.